Polo 1 copertino, libriamoci, la lettura è contagiosa e oggi vi leggerò la storia di un cane simpaticissimo e anche un po' puzzone. Canepuzzone va a scuola. Eccolo qui Canepuzzone, nel suo bidone, insieme al fedelissimo amico spiaccigatto. Da quando è nato Canepuzzone si è mangiato 157 salsicce, avariate, si è bevuto tre litri e mezzo di candigina e ha persino rischiato di morire intossicato con il veleno per topi. È tutto perché non sa leggere le etichette dei rifiuti che trova nel suo bidone. Ma ora basta. Canepuzzone andrà a scuola e annuncia la grande notizia al suo fedele compagno piatto. Spiaccigatto, oggi imparerò a leggere. Che stai dicendo Canepuzzone? Sono appena stato ammesso alla Real Accademia Canina per una giornata di prova. E come sei stato scelto? Mi hanno sorteggiato fra i cani randaggi del quartiere. Spiaccigatto, la ruota gira. Sto per diventare un cane istruito. Spero che la maestra sia gentile e che in mensa si mangi bene. Calma Canepuzzone, non vai mica a scuola per mangiare crocchette. Ma niente può frenare l'entusiasmo di questo animale dal pelo malconcio. Avrò una stuccia e forse anche una gomma. Poi tutto a un tratto Canepuzzone fa un'espressione triste, come uno yogurt scaduto. Oh, Spiaccigatto, che disastro. Io non ho una cartella. Prendi questo sacchetto per l'immondizia, è quasi vuoto. Grazie, Spiaccigatto. Mi accompagni? Certo, a patto che stasera tu mi legga una storia. Quale zampa, amico? Canepuzzone. Corre con il suo sacchetto di plastica in spalla e un barattolo di conserva in testa. Spiaccigatto gli fa le ultime raccomandazioni. Alza sempre la zampa prima di parlare, Canepuzzone, e ascolta bene la maestra. Ho paura, Spiaccigatto, di cosa, Canepuzzone? Della ricreazione. Ho paura di perdermi, giocando al nascondino. Ma allora tu pensi solo a giocare, Canepuzzone? Guarda che a scuola si va per imparare. Dopo aver rovesciato tre bidoni e fatto la pipì su quattro lampioni, Canepuzzone e Spiaccigatto arrivano davanti alla scuola. Spiaccigatto, hanno tutti l'impermeabile e il guinzaglio dorato. L'unico Canepuzzone sono io. Fa onore al nostro bidone, Canepuzzone. Io verrò a prenderti all'uscita con qualche briciola di cornetto al cioccolato. Cammina a testa alta e comportati bene. Canepuzzone entra nell'esclusiva accademia. Un Basset Town con il cappotto E un barboncino con la frangia li passano davanti. Ma io vi conosco, amici, esclama Canepuzzone. Non credo proprio, Canepuzzone. Noi non apparteniamo allo stesso ambiente, gli risponde il Basset Town con il cappotto. Già, tu sei repellente, aggiunge il barboncino con la frangia. Cominciamo bene, pensa Canepuzzone. Pazienza, vorrei dire, che ignorerò quei due botoli che si danno quelle aria. Mettetevi in fila per due, dice la maestra. Povero Canepuzzone, nessuno vuole stare vicino a lui. È così triste che tira fuori dal sacchetto una vecchia boccia di banana per consolarsi. E niente giochi portati da casa, si raccomanda la maestra. A Canepuzzone non resta che succhiarsi il pollice fra gli sguardi di scherno dei compagni. Ma qualche volta anche la vita di un Canepuzzone riserva dei momenti piacevoli. Un cucciolo di Labrador dal pelo lucido, come la seta, gli dice. Se mi piacciono i bambini, posso farmi piacere anche i cani rognosi. Vieni vicino a me. Grazie, amico, esclama Canepuzzone. Mi metterò davanti per sentire meglio la maestra, pensa Canepuzzone, entrando in classe. Sfortunatamente, i primi banchi sono già occupati da un bulldog ben tolettato, un bastotto elegante e un San Bernardo con la luna storta. Pazienza, si dice Canepuzzone. Mi andrò a sedere vicino al termosifone. Ma Canepuzzone a caldo, talmente caldo che il sacchetto di plastica gli si squaglia sulla schiena e lui si addormenta profondamente.